Ben ritrovati cari amici e appassionati di storia e strategia militare, qua sul canale Storia della Seconda Guerra Mondiale. In questo nuovo video della serie sui modelli matematici per anonesi militare, in particolare modello QJM, andremo a trattare le varie variabili che intercorrono nella determinazione di R, cioè i risultati reali in battaglia. Ora, prima di iniziare, innanzitutto voglio farvi un appunto sul mio video precedente, in cui ho glissato totalmente e malamente una spiegazione. Infatti, quando ho parlato delle grandezze fondamentali, dimensioni, unità di misura, ho lasciato intendere erroneamente, scusate, per fortuna la quarta dimensione nei commenti ve l'ho fatto notare più che prontamente, che sostanzialmente dimensione e unità di misura fossero la stessa cosa, che è una cosa totalmente errata. Infatti, la dimensione indica la tipologia della grandezza fisica. Ad esempio, se ci si riferisce ad una lunghezza, ad un'intensità di corrente, ad un'intensità luminosa, eccetera. L'unità di misura, invece, è appunto l'unità con cui confronto delle grandezze dello stesso tipo. Ad esempio, voglio confrontare due lunghezze, uso il metro. E lunghezza e metro non sono la stessa cosa, sono due concetti totalmente separati. Comunque, scusate per questa spiegazione mal fatta nello scorso video. Quindi, addentriamoci nella spiegazione di queste cose che abbiamo appena annunciato. Prima di addentrarci nel vivo della spiegazione, ricapitoliamo un attimo dei concetti fondamentali visti nel primo video. Innanzitutto, abbiamo l'equazione della forza in combattimento, che dice che P, la forza in combattimento, è pari a S. Quindi, il numero è il tipo di equipaggiamento più il numero e il tipo di truppe, moltiplicato però è un fattore riguardante l'ambiente operativo, e infine Q, la qualità della truppa. Per quanto riguarda appunto l'equazione dei risultati reali in combattimento, abbiamo che R, quindi i risultati ottenuti dallo schieramento considerato, sono pari alla somma di M, compimento della missione, C, efficienza quando si riscontrano perdite, e G, abilità di conquista oppure difesa. Ricordiamo vari rapporti fondamentali. Innanzitutto abbiamo la forza teorica in combattimento, P' uguale S per OE, o mettiamo Q appunto. Poi abbiamo il rapporto teorico sulla forza in combattimento, qua nell'esempio riportato dal punto di vista della forza B. Abbiamo P'B fratto P'A, rapporto reale sui risultati in combattimento, RB su RA. Infine l'efficienza in combattimento, appunto il rapporto tra i risultati reali e quelli teorici, quindi RB su RA per PA su PB. E poi abbiamo la forza in combattimento relativa a B, quindi R, C, P, B, SB per OE per radice di C e B fratto SA per OEA. Cominciamo dal primo addendo M, che è quello più particolare, e andremo poi a vedere il perché. Innanzitutto M rappresenta il compimento di una missione e può assumere vari valori. Ad esempio, se una missione è dichiarata completata, avremo appunto M che varierà da un minimo di 7 a un massimo di 10. Sostanzialmente soddisfacente da 5 a 7, meno che soddisfacente da 3 a 5 e risultato minimo da 1 a 3. Come avrete intuito, M, il compimento della missione, può essere considerato sia da un punto di vista oggettivo, sia da un punto di vista soggettivo. In questo caso nel QJM viene inteso un punto di vista soggettivo. Spieghiamo innanzitutto il perché. Cominciamo ad analizzare un esempio molto semplice. Ad esempio, abbiamo una compagnia di truppe speciali. Quindi, gente ben addestratta, molto ben equipaggiata, che si trova a fronteggiare, ad esempio, una brigata corazzata. Quindi, abbiamo già un requisito, cioè un obiettivo di missione, sostanzialmente incompatibile con la nostra unità. E, in poche parole, chiedere troppo alla nostra compagnia di forze speciali di fanteria leggera. Quindi, un'unità di fanteria leggera in quelle condizioni potrebbe essere annientata. Presupponiamo che ciò avvenga. Presupponiamo, quindi, che la nostra compagnia di truppe speciali richiesca, comunque, a disabilitare una quindicina di mezzi corazzati della brigata. Il che, da un punto di vista oggettivo, vorrebbe dire che abbiamo ottenuto un risultato scarsissimo. Probabilmente daremo il valore di M1. Però, che succede a questo punto? Che il valore di R sarebbe basso, sostanzialmente. E quindi, l'efficienza in combattimento sarebbe molto scarsa. E questo potrebbe discorsarsi, sostanzialmente, dal QGM reale, cioè dai risultati del nostro QGM, quindi dai risultati della nostra analisi. Perché la nostra analisi darebbe, come efficienza di questa unità di forze speciali, appunto, un'alta efficienza, dato che sono truppe molto bene addestrate. Il problema riguardo a M è che dobbiamo analizzarlo dal punto di vista soggettivo, cioè, dobbiamo mettere in relazione l'obiettivo della missione nei confronti delle capacità e possibilità della nostra forza analizzata. Come in questo caso avevamo un'unità di fanteria leggera, truppe speciali, che comunque ha distrutto per le sue capacità un alto numero di mezzi e equipaggiamenti della brigata. Quindi il risultato sarebbe sostanzialmente soddisfacente e non scarso, perché dobbiamo sempre rapportare, appunto, la validità dell'obiettivo di missione, la ragionevolezza di questo obiettivo, con, appunto, l'unità in questione. Come non possiamo chiedere a un'unità avviotrasportata di mettersi, appunto, a distruggere un sottomarino. Non sarebbe un ruolo che le compete. Ora parleremo di S, cioè il numero e tipo di equipaggiamento e la quantità e la tipologia della truppa in questione. S è dato, appunto, dalla sommatoria per gli otto indici di categorie di armi, di, appunto, del numero di armi per categoria, moltiplicato per l'indice di letalità operativa per categoria, e, infine, V, il fattore operativo ambientale, ad esempio, stagione, tempo, atmosferico, geografia, quindi posizione geografica, orografia, eccetera, eccetera. Per i non addetti alla matematica, a chi se ne intende di meno, vi spiego che cos'è una sommatoria. Nel caso in cui abbiate qualche base di conoscenza in informatica, potrei dirvi che è, appunto, una scrittura matematica che sta per un loop, ad esempio un ciclo for, che in questo caso va da 1 a 8, quindi io assumo i valori da 1 fino ad 8, è una iterazione. Cioè, se io volessi scrivere in un modo analogo questa dicitura, dovrei scrivere N1 per Oli1 per V1 più N2, Oli2, V2 più N3, Oli3, V3, avete capito, fino ad 8. E il risultato di questa somma lunghissima sarebbe, appunto, S. Questo è un modo semplicemente più corto e più riassuntivo di dare questa dicitura. Vediamo, appunto, le macro-categorie di armi. 1. Abbiamo le armi leggere, fucili, marksman, pistole, fucili d'assalto, mitra. 2. Avremo le mitragliatrici, scusate, MG mitragliatrici, quindi avremo le LMG, MMG, mitragliatrici pesanti. Poi avremo le, nel punto 3, avremo le armi pesanti, come potrebbero essere javelin o lanciarazzi trasportabili, armi anticarro trasportabili, eccetera. Poi, appunto, 4, armi anticarro, 5, artiglieria, 6, antiaerea, 7, corazzate, quindi carri, cacciacarri, eccetera. E blindati, 8, supporto aereo ravvicinato. Quindi, S sta appunto nella somma. Ad esempio, prendiamo, partendo dal numero 1, avremo il numero di armi leggere moltiplicate per l'indice di letalità di queste armi leggere, più il fattore operativo dipendente, appunto, dalle armi leggere, quanto performano in questo ambiente. Poi, sommiamo 2, N2, cioè il numero di mitragliatrici, più indice di letalità delle mitragliatrici, più V delle mitragliatrici, fino ad arrivare a 8, ci dà un quadro complessivo di, appunto, S. Ora tratteremo G, cioè l'abilità di conquistare o difendere una data posizione. Facciamo due disclaimer fondamentali, prima di imbatterci in questa spiegazione. Qua abbiamo notato che abbiamo dei coefficienti di aggiustamento, questo 3 e questo 4, qua numeratore. Nel libro che ho letto, Dupuy non giustifica affatto la scelta di inserire questi coefficienti e in questo valore specifico. Seguendo la tesi di Ciano, è anche riportata in quel caso questa affermazione e faccio notare che Ciano ha analizzato molte più fonti di quelle che ho letto io. Quindi, manca ancora sostanzialmente una spiegazione a questo problema. Andrò poi a vedere nei forum del Dupuy Institute, in cui ci sono molte discussioni, se casomai l'argomento sia venuto fuori tra gli analisti. Secondo disclaimer, farò qualche affermazione molto molto vaga di analisi matematica. Quindi, per chi è del settore, per chi mastica sostanzialmente, chiedo di non imbestialirsi di fronte a tali banalizzazioni. Il mio intento non è di banalizzare l'analisi matematica, ma di rendere un discorso comprensibile a chi non è propriamente addetto ai lavori che mastica gli argomenti. Quindi, addentriamoci nella spiegazione di questa definizione. Vediamo che tra le variabili intercorre di nuovo S. Numero e tipo di equipaggiamento. D. Media giornaliera di avanzamento o arretramento. Se D è maggiore di 0, avremo un avanzamento. Se D è negativo, un arretramento. Allora, se vi ricordate la serie di video sulle tattiche di offensiva dell'esercito russo, saprete che nei giorni precedenti all'offensiva su larga scala, avremo delle puntate che mirano a raggiungere delle posizioni tattiche vantaggiose per proiettare un secondo attacco in larga scala. Quindi, in quei giorni avremo appunto delle piccole puntate di avanzamento per chi sta in attacco e anche degli arretramenti, perché la difesa non starà sicuramente a guardarci fare. Quindi cercheranno anche di rimandarci indietro. Poi, a la profondità dell'area occupata dalle truppe. Qua spendiamo due parole importantissime. Credo che tutti voi, ultimamente, abbiano visto una banale cartina sulla situazione della guerra russa-ucraina. In cui, sostanzialmente, vediamo sempre l'area conquistata dai russi, colorata ad esempio di rosso, e ci viene da pensare che appunto questa variabile A sia appunto la profondità di quest'area totale. No, perché ci stiamo riferendo, in questo caso, alla profondità dell'area occupata dalle truppe che stanno combattendo, quindi alla linea del fronte. Nelle retrovie non ci sta la linea del fronte, bensì unità di vita logistica, controllo del territorio, scorta armata logistica, eccetera. Non ci sta la linea delle truppe con impiego bellico, diciamo. Poi, infine, vediamo POS, atteggiamento dell'unità. Quindi, qua vediamo in tabella, appunto, i vari atteggiamenti. Abbiamo attacco con valore di 1, difesa affrettata e malorganizzata con valore di 1,3, difesa abbastanza preparata 1,5, difesa fortificata, quindi abbiamo un nemico trincerato e già pronto a difendersi, 1,6, ritirata 1,15, ritardo 1,2. Per chi conosce abbastanza analisi matematica, sarà ovvio arrivare alla conclusione che G di B non ha sostanzialmente senso in questa formulazione, perché? Perché? Appunto, facciamo un esempio stupido. In guerra sappiamo tutti che entrambi gli schieramenti tendono a massimizzare la loro abilità di conquista o difesa. Quindi, chi attaccherà cercherà di massimizzare il suo G in attacco, chi si difende cercherà di massimizzare la propria difesa. E un modello matematico valido deve rispecchiare la realtà e non affermare cose controintuitive. E' quello che avviene appunto in questo caso. Appunto, facciamo un esempio stupido. Prendiamo appunto G di B, quindi della truppa B. Supponiamo che la truppa B debba attaccare e quindi si stia preparando un vasto numero di mezzi, di truppe, di equipaggiamenti in vista del grande attacco. E quindi, cosa accade al valore di B in questo caso? Dato che S di B è a denominatore, succederà appunto che se una frazione ha un denominatore grosso, scusate il termine, succede che il valore totale della frazione diminuisce. Dato che qua intercorre una moltiplicazione tra queste varie frazioni, succede che il risultato sotto radice complessimamente diminuisce. Tutto questo è posto sotto una funzione di radice quadrata. Se conosciamo l'andamento della radice quadrata, appunto il silo uguale alla radice quadrata di x, sappiamo che è una funzione crescente nell'arco 0 incluso più infinito. E quindi possiamo dedurre che G di B diminuirà. E' una cosa controintuitiva, dato che G di B dovrebbe aumentare. Se abbiamo più armi, più equipaggiamento, più truppe, dovremmo essere più capaci di conquistare o difendere una posizione. Il che ha portato Ciano, appunto, a fare una seconda formulazione più corretta, dato che questa è sostanzialmente fallace. A questo punto il buon Ciano ci ripropone una dicitura più corretta di G di B, appunto spostando S B a numeratore e mettendo S A al denominatore. In questo caso, aumentando il numero di armamenti, di truppe e la loro qualità, avremo che G di B aumenterà per forza, il che è più che logico dal punto di vista reale. Parliamo, appunto, dell'efficienza in caso delle perdite. Era l'ultimo addendo nel calcolare R. Quindi, da questa dicitura, possiamo innanzitutto notare che l'efficienza è funzione della vulnerabilità del nostro nemico. dei rapporti di perdite, dei rapporti della postura e dei rapporti, diciamo, di numero e tipo di armi e truppe. Ed inoltre è anche proporzionale al rapporto sulle perdite totali della nostra unità, quindi perdite della nostra unità fratto totale dell'unità. Quindi, questa dicitura sta appunto a ricalcare un fatto reale, quindi diciamo che ha sostanzialmente senso, perché se la nostra forza, se il nostro nemico diventa più vulnerabile, innanzitutto avremo una maggiore efficienza del nostro schieramento. Inoltre, se il nemico subisce perdite, quindi SA e CASA, quindi CASA aumenta e SA diminuisce, avremo sostanzialmente che la nostra unità cresce in efficienza. Al contrario, se queste variazioni avvengono in senso opposto, avremo appunto una perdita di efficienza. Andiamo appunto a vedere le varie variabili che intercorrono in questa definizione. Innanzitutto abbiamo VL, vulnerabilità del nemico, CAS, media delle perdite giornaliere, POS, atteggiamento dell'unità, quello che avevamo visto nella tabella all'inizio video. S, numero e tipo di equipaggiamento e truppa, N, effettivi dell'unità. Vediamo appunto VL, la vulnerabilità al fuoco nemico. In questa ultima videata vediamo appunto che VL, riferito alla forza V nell'esempio, dipende sostanzialmente da N, numero personale, POSV, atteggiamento di vulnerabilità, vi rimando sempre alla solita tabella all'inizio video, IRV, vulnerabilità aerea, AMPHV, vulnerabilità in operazioni anfibie o attraversamento fiume, TD, fattore dovuto al terreno, quando la forza è in assetto difensivo, S, il numero e il tipo di equipaggiamento e di truppa. Premetto che volevo porre questa linea di frazione in tutta la sua lunghezza, però l'OCR adottata da PowerPoint non mi riconosceva la scrittura più e più volte, quindi mi sono accontentato di questa dicitura. Dato che ride bene chi ride ultimo, facciamo un appunto. Ultimamente sul canale di Metal Mike abbiamo assistito agli improperi dell'ultimo fenomeno parastatale che è arrivato, il quale, il signor fattore orografico, sosteneva che l'orografia del terreno italiano non conto affatto appunto nella guerra di liberazione degli alleati, quindi nella campagna d'Italia, degli anglo-americani. Il che non c'è nulla di più sbagliato, come ha già fatto notare Mike, fior di esperti, utenti del canale di Mike, eccetera, quindi gente che tutto sommato se intende, vorrei ricalcare questo aspetto dal punto di vista dell'analisi militare. Come abbiamo visto in queste videate, è sempre ricorrente in modo assiduo, in modo ossessiva, sempre questa benedetta variabile che si rifà al teatro operativo. Qua, ad esempio, abbiamo un fattore dovuto al terreno, quindi all'orografia, al metodo, alla stagione, eccetera, e inoltre nel valutare le vulnerabilità, come si faceva riferimento per chi ha seguito la diatriba sul canale di Mike, in cui si parlava che in quella zona considerata da Cicciobello fattore orografico erano presenti vari fiumi e qua, appunto, nel valutare i risultati reali di battaglie storiche, perché ci stiamo riferendo all'equazione R, che serve, appunto, ad analizzare i conflitti storici, abbiamo, appunto, il fattore di vulnerabilità nell'attraversamento dei fiumi, perché le nostre unità hanno maggiore vulnerabilità in queste operazioni, ad esempio. E quindi il teatro operativo, la geografia del posto, è una cosa imprescindibile, come abbiamo visto nella serie sull'offensiva, appunto, russa, come vediamo qua, come vedremo nella serie sulla difesa delle forze armate russe, eccetera, sono argomenti imprescindibili. Siamo giunti alla fine di questa seconda puntata, nelle prossime puntate continueremo a analizzare la validità di questo modello matematico. Detto questo, vi auguro buona serata, date un'occhiata alle fonti, che sono sempre interessanti, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se sapete qualcosa in più ve lo chiedo, fatelo sapere, se non siete d'accordo e avete delle ragioni fondate per non esserlo, fatelo anche sapere, ve ne sarò più che grato. Detto questo, divertitevi e alla prossima!